Il Festival Irlandese arriva a Genova 9, 10, 11 marzo, quindi questo weekend che sta per iniziare e sarà un evento dedicato alla musica, al folklore e alla gastronomia irlandese, quindi tutto il mondo dell'isola di Smeraldo era chiuso in questi tre giorni all'interno della Fiera di Genova. Sarà un evento dedicato non solo alla parte gastronomica e alla birra irlandese, ovviamente Guinness, Kilkenny e Arp, ma ci sarà una parte molto importante dedicata ai concerti. Quindi ci saranno band musicali che arrivano direttamente dall'Irlanda. Ecco, oltre alla musica ci saranno anche degli altri momenti di cultura irlandese. Assolutamente, ci saranno le danze irlandesi, abbiamo due ballerini professionisti che hanno viaggiato diversi teatri, sono i Decapla e oltre a questo avremo tutta la parte dedicata alla cultura celtica, quindi ci sarà un intero villaggio celtico ricostruito dove sarà possibile interagire con i rievocatori storici e l'area sarà a cura di Terra Taurina, che è un clan dei più antichi in Italia e appunto avremo sia il villaggio che diverse dimostrazioni, tra cui la vestizione del guerriero celtico, il combattimento tra guerrieri, workshop e didattiche sia di combattimento che di pittura dello scudo, di costruzione delle armi per i bambini, tiro con l'arco, ci sarà il matrimonio celtico, quindi chi del pubblico fosse desideroso di provare a sposarsi anche nel rito celtico non ha valore chiaramente civile, ha solo valore spirituale, però potrà farlo con il druido del clan all'interno del festival irlandese nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.